Ma non è bene, chi è? Chi è? Chi è? Ecco, Luigian, non so Luigia. Luigian, non ce lo senti. Chi è il Giacente? Si chiama Luigia. Ma se ci senti? No, senti benissimo. È lei che non senti. Ah, è? No, è. Eh, è. Ma chi è? Si chiama Luigia. E chi è? Non la conosco. No, lei è una signora single che si vuole fidanzare. Ah, è il tuo nome, come andando che stai? È italiano, chi è? È italiano. Tu sai ballare? So ballare, ma non voglio ballare. Non vuoi ballare, no. E allora vai. Va bene? Senti, guidi la macchina. Chi è? Tu. Guidala. Guidava. Guidava. Adesso? No, non più. Basta niente. Va bene lo stesso? Sì. Ne troviamo un altro per lei? Va bene.